Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny 2 in questo nuovissimo video news in cui voglio parlare di quello che è stato detto in occasione della Gamescom ma soprattutto di quello che è stato mostrato perché proprio in occasione della fiera che normalmente si tiene a Colonia ma quest'anno si tiene soltanto digitalmente Bungie ha deciso di pubblicare un nuovissimo video in cui nel giro di qualche minuto vengono ulteriormente mostrate le nuove abilità, i nuovi poteri che i nostri guardiani apprenderanno con l'espansione prevista per il 10 novembre oltre la luce. Di queste nuove abilità ne abbiamo brevemente parlato, si sfrutterà la stasi, questo è il nome che le è stato dato ed è un potere oscuro e tutte le classi al momento presenti quindi titani, stregoni e cacciatori apprenderanno delle nuove abilità e tramite questi minuti di gameplay inediti abbiamo avuto conferma di due cose, innanzitutto che quanto più o meno avevamo visto in passato bene o male è stato confermato, le idee che c'eravamo fatti delle nuove abilità di come potessero venire sfruttate e di quali effetti potessero avere sui nemici sembrerebbero tutti più o meno confermati, ma ancora più importante se non per qualche similitudine questi minuti di gameplay ci hanno dato ulteriore prova di come questa nuova abilità verrà sfruttata diversamente dalle classi, chi insomma la potrà sfruttare più in maniera offensiva e chi in maniera difensiva o strategica, come già avviene con le altre sottoclassi. Alla fine è qualcosa che potevamo anche aspettarci, l'aspetto più interessante però è che nonostante già siano state rivelate diverse informazioni e se non direttamente rivelate le abbiamo potute vedere direttamente in gioco, sebbene questi filmati fossero comunque scriptati, Bungie ha confermato anche che nel corso della prima settimana di settembre in tre occasioni, quindi in tre date ben distinte, approfondirà ogni singola classe. Per la precisione il 1 settembre vedremo gli stregoni, il 3 settembre vedremo i titani e l'8 settembre vedremo i cacciatori. Ulteriori dettagli verranno condivisi, in ogni caso aspettatevi anche sul canale dei video riassuntivi per mostrare un po' sicuramente le nuove abilità e quasi certamente anche qualche nuova informazione che emergerà con esse. Ragazzi per il momento da parte mia è tutto, come al solito vi ringrazio per la vostra attenzione, spero il video sia stato di vostro interesse e vostro gradimento e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!